I tre ex concorrenti del Grande Fratello VIP di Alfonso Signorini continuano a far notizia con il loro discusso rapporto. Soleil sorge. Alex Belli ed Elia Duran non smettono di stupire il pubblico. Dopo il triangolo amoroso di un anno fa al Grande Fratello VIP e le varie frecciatine post-reality show, i tre ex vipponi hanno condiviso una cena in Egitto. L'ex corteggiatrice di uomini e donne, così come l'attore e la modella venezuelana, si sono recati a Charme El Sheikh per un impegno di lavoro e non hanno avuto problemi a condividere la stessa tavola. Soleil sorge si è seduta di fronte ad Alex ed Elia e nella foto che ha prontamente fatto il giro dei social network appare sorridente e raggiante. Pace fatta dunque? Molto probabilmente sì. Ma i commenti negativi sul web si sono sprecati. Tanti, tantissimi, hanno accusato i tre ex vipponi di aver finto astio e ostilità solo per far parlare di loro. Nell'ultima intervista rilasciata Verissimo, ad esempio, la conduttrice del GF VIP Party non ha esitato a dire di non volere più alcun rapporto con l'ex star di Cento Vetrine e la sua compagna. Soleil ha parlato di un taglionetto e deciso perché si è sentita presa in giro dal comportamento di Alex nella casa più spiata d'Italia. E invece? Prima dell'Egitto Soleil sorge. Alex Belli ed Elia Duran si sono rivisti qualche settimana fa a Cortina. All'evento VIP Champion. In questa occasione l'italo-americana non ha rivolto neppure una parola alla coppia, mantenendo le distanze. A Sharm el Sheikh, molto probabilmente, c'è stato un chiarimento tra i tre che ha portato a nuovi ed interessanti sviluppi. Tra l'altro Soleil sorge e arrivata in Africa da sola. Senza il fidanzato Carlo. Una storia d'amore che va avanti da circa un anno ma che, per volontà dell'influencer, è vissuta nel massimo riservo. Lontano da gossip e pettegolezzi. Tutto il contrario di Alex Belli ed Elia Duran. Che ormai sono una coppia nella vita privata così come nel lavoro. Che ormai sono una coppia nella diversità. Grazie per la visione!